Sogno raramente e se capita mi risveglio di soprassalto in un bagno di sudore. In questi casi poi mi abbandono nel letto e medito sul potere magico e inesorabile delle notti aspettando che il cuore si calmi. Da bambino o da ragazza non facevo sogni né belli né brutti e la vecchiaia che mi trasporta senza sosta un orrore impastato di detriti del passato che mi travolge con la sua massa via via sempre più compatta, sempre più opprimente, un orrore più tragico di ogni esperienza reale perché le cose che vedo nell'incubo non ho mai vissute sul serio e mi risveglio urlando. I miei sogni sono assolutamente uguali, tessuti di visioni ricorrenti. Sono in piedi, in fondo alle nostre scale, nell'androne. Mi trovo sul lato interno del portone con il telaio d'acciaio, il vetro infrangibile rinforzato di tessuto metallico e cerco di aprirlo. Fuori in strada si è fermata un'ambulanza. Attraverso il vetro intravedo le siluette iridescenti degli infermieri. Hanno avvolto i gonfi, naturalmente grandi, contornati da un alone come la luna. La chiave gira nella serratura ma i miei sforzi sono vani. Non riesco ad aprire il portone. Eppure so che devo far entrare gli infermieri, altrimenti arriveranno troppo tardi del mio malato. La serratura è bloccata. La porta non si muove, come se fosse saldata al telaio d'acciaio. Grido in bocco aiuto, ma nessuno degli inquilini che abitano sui tre piani della casa mi ascolta. Non posso farlo perché, me ne rendo conto, boccheggio a vuoto come un pesce e quando capisco che non solo non riesco ad aprire il portone ai soccorritori, ma sono anche diventata munta. Il terrore del sogno raggiunge il culmine. Accendo la luce, provo a dominare il senso di soffocamento che mi assale sempre dopo il sogno. Intorno ci sono i mobili conosciuti della nostra stanza da letto. Sopra il letto li conostasi di famiglia. I miei avi parricidi che indossano il dolman con gli alamari, secondo la moda del barocco ungherese e del Biedermeyer. Vedono tutto, capiscono tutto. Sono gli unici testimoni delle mie notti. Sanno quante volte sono corsa ad aprire la porta agli infermieri, all'ambulanza, quante volte ho provato a immaginare, mentre devo filtrare dal portone aperto il passo felpato di un gatto o lo stormire delle fronde. Invece dei noti rumori diurni delle strade ora mutolite, che cosa succederebbe se un giorno lottassi in vano e la chiave non girasse nella serratura. I ritratti sanno tutto, in special modo ciò che mi sforzo di dimenticare, che ormai non è più sogno. Una sola volta nella mia vita, nella realtà e non nell'anemia cerebrale del sonno, una porta si spalancò davanti a me. La porta di una persona che voleva difendere a ogni costo la propria solitudine e la propria misera impotenza, che non avrebbe mai aperto, nemmeno se le fosse crollato addosso il tetto in fiamme. Solo io avevo il potere di vincere quella serratura. La donna che girò la chiave aveva più fede in me che in Dio, e io stessa in quell'istante fatale. Credete di essere saggia, riflessiva, buona, razionale, come Dio. Ci sbagliamo entrambe. Lei che si fidò di me, io che confidai troppo in me stessa. Ma ormai poco importa, perché ciò che è accaduto non si può rimediare. Vengano dunque di tanto in tanto queste erinni, che indossano calzature sanitarie rialzate come coturni e copricapi da infermieri sulle maschere tragiche. Si dispongono intorno al mio letto. Brandiscano i miei sogni come fossero spade sguainate. Ogni sera spengo la luce e le aspetto. Mi preparo a sentire nel sonno lo squilo improvviso del campanello, il suono che annuncia un orrore indicibile e comincia a tracinarmi verso il portone che non si apre. Nella mia fede non esiste la confessione individuale. Noi riconosciamo di essere peccatori per bocca del pastore e di meritare il castigo perché abbiamo infranto in ogni modo possibile i comandamenti. E riceviamo il perdono senza che Dio esiga da noi spiegazioni o particolari. Io invece li fornirò. Non ho scritto questo libro per Dio che mi conosce fin nelle viscere, né per quelle ombre, testimoni di ogni cosa che osservano le ore delle mie veglie e del mio sonno. Bensì per gli esseri umani. Finora ho vissuto coraggiosamente. Spero di morire allo stesso modo. Con coraggio e senza menzogna. Ma questo può accadere a una sola condizione. Devo ammettere che Emerank l'ho uccisa io. Volevo salvarla, non distruggerla. Ma non posso tornare indietro e cambiare le cose. Il contratto. Quando parlai con lei per la prima volta mi sarebbe piaciuto vedere il suo viso e fui in imbarazzo che non mi concedesse la possibilità di farlo. Stava in piedi davanti a me come una statua. Immobile. Non era dritta sull'attenti. Pendeva leggermente da un lato. Indovinai la sua fronte a malapena. Non sapevo ancora che avrei potuto vederla senza fazzoletto in testa solo sul letto di morte. Perché girava sempre con un fazzoletto come se fosse una cattolica molto pia o una donna ebrea durante il suo sabbà, cui la fede proibisce di presentarsi al cospetto di Dio a capo scoperto. Era un giorno d'estate. Uno di quelli in cui non c'è alcun motivo di ripararsi. Eravamo in giardino sotto il cielo del tramonto che virava al viola. E lei sembrava stonata in mezzo alle rose. Di una persona a volte si sente che fiore potrebbe essere se fosse nata sotto forma di vegetale. E lei non era sicuramente una rosa. La rosa non è un fiore innocente. Offre i suoi petali carminio in modo quasi impudico. Sentì subito quel che Emeren che non avrebbe potuto essere, ma non quel che avrebbe potuto essere, non sapendo ancora nulla di lei. Il fazzoletto le copriva la testa lasciando in ombra gli occhi. In seguito scoprì che le iridi erano blu. Mi sarebbe piaciuto sapere di che colore fossero i suoi capelli, ma finché rimase se stessa li tenne sempre nascosti. Quel tardo pomeriggio vivemmo momenti importanti. Dovevamo decidere entrambe se potevamo accettarci reciprocamente. Mio marito e io abitavamo da alcune settimane nella nuova casa, sostanzialmente più grande di quella dove avevamo vissuto fino allora. Per tenere in ordine il vecchio appartamento di una stanza non mi occorreva aiuto, ma le cose erano cambiate anche perché la mia carriera, congelata per dieci anni, stava per ripartire. Nella nuova dimora ero tornata scrittrice a tempo pieno, con maggiori opportunità e numerosi impegni che un po' mi inchiodavano la scrivania e un po' mi mi trovavo in giardino, di fronte a quella vecchia donna silenziosa. Era ormai chiaro che se non avessi trovato qualcuno ad alleviarmi il peso dei lavori domestici, non avrei potuto pubblicare ciò che avevo creato in anni di silenzio, né dare forma a ciò che ancora mi restava da dire. Appena concluso il trasloco dei libri della nostra biblioteca e dei mobili traballanti che avevano richiesto molta delicatezza, cercai subito di risolvere la questione dell'aiuto domestico. Chiese a tutte le persone che conoscevo nel quartiere finché un'antica compagna di classe risolse le nostre preoccupazioni. La sua sorella disse c'era un'anziana donna che teneva la casa in ordine da parecchi anni, valeva più di qualsiasi giovane e se avesse avuto il tempo anche per noi me la raccomandava di cuore. Garantiva che la persona in questione non avrebbe incendiato la casa con un mozzicone di sigaretta, non avrebbe avuto storie con uomini, non avrebbe rubato nulla, anzi se ci avesse preso in amicizia sarebbe stata lei a portare delle cose, perché era di natura passionalmente generosa. Non aveva mai avuto un marito né figli, riceveva regolarmente le visite di un nipote ed un ufficiale di polizia e tutti nel quartiere le volevano bene. Parlò di lei con calore e rispetto. Aggiunse che Emerenc era anche portinaia, quindi una sorta di autorità pubblica, sperava che ci accettasse perché se non fossimo riusciti a conquistare la sua stima non avrebbe accettato il lavoro per nessuna somma di denaro. L'avvio del nostro rapporto non fu promettente, Emerenc stessa si dimostrò tutt'altro che affabile quando le chiesi il disturbo di passare da noi alla prima occasione per una breve chiacchierata. La invitai nel cortile dell'edificio in cui faceva la portinaia. Viveva vicino a noi, così vicina che potevo vedere la sua abitazione dal nostro balcone. Stava lavando un'immane quantità di bucato con mezzi assolutamente antiquati. Bolleva la biancheria dentro un calderone sulla fiamma scoperta, rimescolando le lenzuola con un lungo cucchiaio di legno nel calore atroce. Contornata dai bagliori del fuoco, era alta, ossuta, possente nonostante l'anzianità. Non era grassa, ma muscolosa. Emanava una sensazione di forza. sembrava una valchiria. E il fazzoletto in testa aveva l'aspetto di un elmo guerriero. Accettò di fare un salto da me. Fu così che ci trovammo insieme nel giardino, in quel tramonto. Mi osservò, silenziosa, mentre le spiegavo l'entità del lavoro da svolgere in casa nostra. Parlando, mi venne in mente che non avevo mai considerato credibile uno scrittore che in qualche grande romanzo del secolo scorso paragonava il viso di un personaggio a un lago. Mi vergognai, come tutte le altre volte in cui avevo osato dubitare dei classici. Il viso di Emering non si poteva paragonare ad altro che a uno specchio d'acqua piatto, immobile, nel chiarore delle prime luci dell'alba. Non sapevo fino a che punto le interessasse la mia proposta, perché era chiaro che non le occorrevano né un'occupazione né il denaro. Ero io che avevo terribilmente bisogno che accettasse, ma il suo viso, simile allo specchio di un lago, sotto l'ombra del fazzoletto che ricordava un indumento rituale, per lungo tempo non tradì alcuna emozione. Emering non sollevò il capo nemmeno quando, alla fine, rispose che potevamo eventualmente riparlare della questione, perché in una casa dove lavorava la situazione era diventata insopportabile. Marito e moglie si ubriacavano. Il figlio, ormai adulto, era finito sulla cattiva strada e lei non aveva più intenzione di badare a loro. Se qualcuno avesse offerto garanzie sul nostro conto, convincendola che in casa nostra non c'erano attaccabrighe né ubriaconi, se ne sarebbe potuto riparlare. L'ascolta interdetta. Era la prima volta che qualcuno pretendeva referenza sul nostro conto. «Io non lavo panni sporchi al primo che capita», disse Emering. Aveva una voce limpida, da soprano. Doveva vivere nella capitale da molto tempo, perché, se non avessi compiuto studi di linguistica, dal modo in cui pronunciavo le vocali, non mi sarei accorta che poteva essere nata nella mia stessa regione. Le chiesi se per caso fosse originaria dell'Aidusag, credendo che la domanda le facesse piacere, ma si limitò ad annuire col capo, ammettendo che era arrivata alla capitale di Nadori più esattamente da un villaggio attaccato a Nadori, Xabadul. Poi cambia immediatamente discorso, facendo capire che non desiderava affatto l'argomento. Come tante altre cose, solo con gli anni scoprì che considerava indiscreta e inopportuna quella domanda e non aveva intenzione di ricordare il suo passato. Emering non aveva studiato Eraclito, ma conosceva la sua filosofia meglio di me, che ritornavo appena possibile nella città dove ero nata alla ricerca di cose irreparabilmente scomparse. L'ombra degli edifici che un tempo si stendeva sul mio viso, la mia vecchia casa perduta, e naturalmente non trovavo nulla, perché chissà dove scorreva in quel momento l'acqua del fiume che trascina i cocci della mia vita. Emering era troppo saggia per tentare imprese impossibili. Dedicava le energie a ciò che ancora era possibile realizzare nel futuro per il proprio passato, ma naturalmente mi occorse molto tempo per capirlo. Il giorno in cui sentì per la prima volta quelle due località, Nadori e Sabadul, capì che non avrei mai dovuto pronunciare i loro nomi, perché per qualche motivo erano tabù. Bene, pensai, se le cose stanno così, parliamo di questioni concrete. Credetti che fosse più interessata a trovare un accordo sulla sua paga oraria, ma non vuole definire nulla in anticipo. Mi annunciò che avrebbe deciso la montare del salario solo quando si fosse fatta un'idea più precisa sul nostro conto e avesse capito in che misura fossimo negligenti, disordinati, quanto lavoro occorresse in casa nostra. Doveva procurarsi informazioni su di noi, non dalla nostra compagna di classe perché sarebbe stata poco attendibile, e una volta ottenute mi avrebbe fatto conoscere la sua risposta anche se negativa. La seguì con lo sguardo mentre si allontanava con passo tranquillo. Pensai che quella vecchia era talmente fuori dagli schemi che sarebbe stato meglio per tutti se non avesse accettato l'impiego, e per un istante ebbi la tentazione di richiamarla. Era ancora in tempo per dirle che avevo cambiato idea. Non lo feci. Emmerich tornò dopo una breve settimana. Nel frattempo, naturalmente, la incontrai con mio marito per strada più di una volta, ma si limitò a salutarci e a allontanarsi rapidamente, come per dimostrare che non voleva né prendere decisioni affrettate, né chiudere senza ragione una porta che non aveva ancora aperta. Quando suonò il campanello e me la vidi di fronte, vestita da festa, afferrai subito il significato di quell'abbigliamento e scalpitai imbarazzata per il mio succinto costume da bagno. Indossavo un abito nero a maniche lunghe, distofa raffinata, scarpe di vernice, e mi annunciò, come se proseguissimo la precedente conversazione, che avrebbe cominciato il lavoro l'indomani e verso la fine del mese sarebbe stata in grado di comunicarmi l'ammontare del suo salario. Nel frattempo, fissò con un sguardo severo le mie spalle nude. Fui felice che non trovasse nulla di riprovevole almeno sul conto di mio marito, seduto in giacca e cravatta nonostante i trenta gradi, perché anche con la canicola non abbandonava mai le abitudini prese in Inghilterra prima della guerra. Loro due accanto a me, vestiti di tutto punto, sembravano voler essere ad esempio a quella tribù che consideravano primitiva, cui appartenevo anch'io, per indurla a rispettare i segni esteriori della dignità umana. Se mai c'è stata una persona al mondo che somigliasse in qualche modo a Emerenc, questo è mio marito, ed evidentemente è questa la ragione per cui non riuscivano a stare a lungo davvero vicini l'uno all'altra. La vecchia quella volta strinse la mano a tutti e due, ma in generale cercò sempre di evitare ogni contatto fisico con me. Se mi capitava di tendere la mano verso di lei, faceva subito il gesto di allontanare le mie dita come se scacciasse una mosca. Quella sera non prese servizio in casa nostra. Per lei sarebbe stata una decisione indegna e indecorosa. Emerenc si arruolò. Uscendo dalla stanza si congedò da mio marito con un buonanotte padrone. Lui la guardò senza aprire bocca. Non esisteva persona al mondo per la quale quella parola deliziosa fosse meno adeguata. Ma lei gli si rivolse così fino al giorno della sua morte. Mio marito ci impiegò del tempo. Poi si abituò al nuovo appellativo e cominciò a risponderle. Non prendemmo accordi sulle ore che avrebbe fatto in casa nostra, né sugli orari. Era normale che dopo essere stata assente per tutta la giornata la vedessimo comparire verso le undici di sera per rigovernare la cucina e magari pulire la dispensa fino all'alba. Talvolta accadeva che ci fosse vietato l'uso del bagno per mezza giornata perché aveva messo i tappeti in ammollo nella vasca. Compensava i suoi capricciosi orari con prestazioni sbalorditive. La vecchia sgobbava come un robot. Muoveva mobili che sembravano inamovibili senza la minima indulgenza verso se stessa. Nella sua capacità di lavoro e nella sua energia c'era qualcosa di sovrumano, quasi inquietante, tanto più che non era affatto necessario si sovraccaricasse a tal punto. Emering provava manifesta soddisfazione nel lavoro. Amava agire e non sapeva che farsene del tempo libero. Portava a termine ogni attività senza la minima pecca. Girava avanti e indietro per la casa, la maggior parte delle volte in silenzio, non solo perché si prendeva poca confidenza e non era curiosa, ma cercava di evitare le chiacchiere inutili. Esigeva molto, più di quanto avessi immaginato, ma in compenso offriva anche molto. Quando annunciavo di avere degli ospiti o qualcuno si presentava all'improvviso, mi domandava se desiderassi aiuto, cosa che la maggior parte delle volte rifiutavo. Non volevo far sapere agli amici che in casa nostra io non ero nulla. Emering aveva trovato una formula solo per rivolgersi a mio marito. Io non ero né scrittrice né signora, e questo durò finché non riuscì ad assegnarmi una collocazione nella sua vita. Finché non stabilì che ero in relazione con lei, e qual era l'appellativo che mi si addiceva meglio, non mi chiamò in alcun modo. Naturalmente aveva ragione lei anche su questo punto, perché ogni definizione senza emozioni finisce per essere imprecisa. Emering, purtroppo, era perfetta sotto ogni aspetto. Talvolta risultava addirittura imbarazzante, perché di fronte ai miei timidi elogi dichiarava senza mezzi termini che non desiderava ricevere continui complimenti. Non c'era bisogno che la lodassimo, era ben chiaro il valore del suo lavoro. Indossava sempre abiti grigi, vestiva di nero solo nei giorni di festa o nelle grandi occasioni, si proteggeva i vestiti con un grebbiale pettorina che cambiava tutti i giorni, distegnava i fazzoletti di carta e usava fazzoletti di tela inamidati, bianchi come la neve. Quando mi accorsi che anche lei aveva dei punti deboli, fui davvero felice. Talvolta, per esempio, restava in silenzio per mezza giornata, qualunque cosa le domandassi. E un giorno, durante un temporale, scoprì il motivo. Aveva paura dei tuoni e dei fulmini. Se si avvicinava una tempesta, zettava ciò che aveva in mano, si precipitava a casa senza fornire spiegazioni e si rintanava nella sua stanza. «E' un'anziana zitella, non può avere manie», disse a mio marito. Lui scosse la testa. «Quel terrore mi corresse, era al contempo qualcosa di più e di meno di una mania. Traeva origine sicuramente da una causa recondita, ma secondo lui non ci riguardava. In fondo ci aveva mai comunicato qualcosa di veramente essenziale sul suo conto? Mai, se ben ricordo. Emering era un tipo tutt'altro che lo cuace».